Buone notizie per l'ospedale di Ostuni, nel quale tornerà a funzionare dal prossimo ottobre il reparto di chirurgia, con addirittura il rientro di tre medici a tempo pieno, dopo lo stop subito lo scorso giugno, sempre a causa della carenza di personale sanitario. Almeno questo è quanto asserito da Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Questo significa che il nosocomio della Città Bianca svolgerà un ruolo importante nella sanità pubblica della provincia di Brindisi. Soprattutto può togliere molto lavoro all'ospedale Perrino del Capologo Adriatico, perché tutta la parte che si può fare in The Hospital and Service si può fare tranquillamente a Ostuni. Però va evidenziato che tutte le urgenze verranno comunque centralizzate sul Perrino e tutti i chirurghi dell'ASO dovranno assicurare alla chirurgia del nosocomio Brindisino i turni mancanti dovuti alla carenza di personale. Avere come punto di riferimento il più grosso ospedale della provincia, quale il Perrino appunto, non è sbagliato, ma occorre potenziarlo con assunzioni di decine e decine di medici, infermieri e OSS, senza stressarlo ulteriormente. È chiaro che parliamo di una coperta ancora molto corta, per cui bisogna improntare immediatamente un piano finalizzato a rispondere adeguatamente a un'assistenza sanitaria dei cittadini. Intanto il direttore generale dell'ASO di Brindisi ha assicurato che pronto soccorso e ortopedia dell'ospedale di Ostuni saranno potenziati rispettivamente con un cardiologo e un ortopedico. In radiologia invece sarà rinnovato il parco macchine. Insomma, il nuovo direttivo pare si stia muovendo nella direzione giusta, con l'auspicio che non si tratti soltanto di buoni propositi, ma di azioni concrete da attuare nel più breve tempo possibile per ridare speranza ai pazienti, oramai assai sfiduciati dalla sanità pubblica e locale.